Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che ancora vedrà clima estivo sull'Italia, tra l'altro con parecchia umidità, quindi il caldo è ancora piuttosto pesante, però è anche vero che dal Mediterraneo continuano ad arrivare un po' di nuvole, anche qualche piovasco ma interesseranno su alcune zone dell'Italia. Vediamo infatti la nuvolosità attesa per questo mercoledì, come vedete nuvolosità molto sfrangiata, interessa in parte le regioni tirreniche ma in molte zone dell'Italia le aree di sereno saranno davvero ampie. Anche come precipitazioni giusto qualche locale piovasco potrebbe interessare le regioni più occidentali ma in particolare le isole maggiori, per il resto qualche breve acquazione si formerà sull'Appennino nelle ore pomeridiane e anche sulle Alpi specie quelle centro orientali non escludiamo qualche temporale pomeridiano. Quindi in definitiva giornata comunque che vedrà tanto sole in diverse zone dell'Italia, qualche acquazione dicevamo in Sardegna, in Sicilia, anche nelle zone interne delle regioni meridionali e lungo l'Appennino, locali piovaschi sulle Alpi orientali, per il resto il ripeto tempo ancora nel complesso bello e con clima estivo. Con questo è tutto per dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.